Caltaacqua ha comunicato che gli acquedotti Ancipe e Blufi stanno gradualmente riprendendo la normale attività e di conseguenza riprenderà anche la distribuzione idrica nei vari comuni della provincia nissena. Per quanto riguarda Calta Nissetta, già oggi nel tardo pomeriggio la distribuzione interesserà le zone Sanatorio, Gibilgabi, Bangeli, Via Cavour, Rasi, Stazzone e Cinnirella. Giovedì 28 luglio la fornitura riprenderà nelle aree Centro Storico Sant'Anne e Centro Balate. Ariesi, sempre giovedì 28 luglio, distribuzione in zona alta Serbatoio Ancipa, zona bassa e alta Serbatoio Monte Veronica. Accumulo previsto venerdì 29 luglio, mentre sabato 30 luglio nuovamente distribuzione nella zona alta Serbatoio Ancipa, zona bassa e alta Serbatoio Monte Veronica. Per quanto riguarda Mazzarino, oggi distribuzione in Via Roma e Immacolata, giovedì 28 luglio nelle aree Fondaco Vecchio e Fasselari e venerdì 29 luglio nelle zone salita montata e mercadante.